Repartita Carpi Romagna con l'ex di turno da vicino, una partita mai banale questa per te, una partita che potrebbe decidere molto le sorti del girone? Sicuramente, siamo tutti e due a pieni punti, mi aspetto una partita molto equilibrata e speriamo di far divertire il pubblico e di divertirci anche noi. Tu ci hai giocato molti anni, quali sono i segreti di questo Romagna? Ma loro sono sicuramente un gruppo unito che si conoscono benissimo, hanno preso un paio di nesti che si sono rivelati ottimi e sicuramente sarà un gruppo tosto da battere. Voi avete dimostrato già in questo inizio di stagione però di essere un gruppo già affiatato, Romagna probabilmente ha avuto un calendario un po' più agevole, Carpi invece ha già affrontato due delle quattro più forti del girone con altre tante vittorie, questo è un bel biglietto da visita? Sicuramente, sicuramente, però adesso l'importante è che giochiamo in casa e far vedere quello che sappiamo fare. Quali sono i punti di forza invece di Carpi contro questo Romagna? Ma sicuramente abbiamo sia la panchilla lunga che corriamo molto, quindi ce la giochiamo così. Un pubblico, quello del Vallaurie, che si prospetta tutto esaurito per una delle partite più importanti per questa prima fase di 2015, certamente. Per quest'ultima fase di 2015. Speriamo, speriamo. Sicuramente ci può dare una mano.